Dica la verità, lei non è invidioso della Serbia, di Belgrado, dove arrivano? No, perché io i vaccini non approvati dal Lema non me li farei neanche morto. Neanche Sputnik? No, non ancora. Professor Crisanti, sulla questione etica e sull'invidia della Serbia? No, guardi, io sono d'accordo con il professor Rassi. Un vaccino va fatto dopo che le autorità reputatorie hanno dimostrato che esiste tutta una catena di qualità, di verifica, di controllo e che il trial è stato fatto con criteri che permettono di verificare l'efficacia. Su questo, guardi, non ho un minimo dubbio.